Il sentiero del pellegrino è nato sempre per lo stesso motivo, perché dal 1360, quando è successo questo prodigio di questa madonnina che è stata trovata, i pellegrini si è sparsa la voce perché è cominciato a venire su, quindi sono venuti per la strada più breve, la più breve era quella del Camporosso, venire su da questa parte, quindi quello lì è stato un sentiero perché poi hanno fatto, è chiaro che poi hanno fatto una strada interpoderale per poter portare giù le niame, portare su anche la roba, quelli che abitavano qui, cioè quelli che avevano attività qua su, hanno largato la strada e quindi hanno fatto una specie di mulattiera e questa mulattiera sussiste tuttora, però fondamentalmente è percorsa dai pellegrini che sono tanti che vengono a piedi, circa 10.000 in estate vengono su a piedi, ed è bello vederli venire su a piedi perché arrivano in chiesa e fanno il giro attorno all'altare e vedo che hanno scarpone, piccozza eccetera, allora siete a piedi, sì, voi siete bravi veramente, dico, sì. Beh, è bravo anche lei perché quante messe vengono celebrate qui? Qui vengono celebrate ogni giorno tre messe, 10, 11, 12 e la domenica anche qui alle 15 pomeriggio. E tutte le messe cerchiamo veramente di dare incontro ai pellegrini che ci sono. Tante volte la chiesa è strapiena perché magari capitano contemporaneamente pellegrini italiani, sloveni tedeschi, allora è chiaro che la chiesa si riempie perché non è tanto grande, però insomma cerchiamo di dare un input europeo a tutti quanti che sono, anzi cerchiamo di far capire che la Madonna di Lussari cerca veramente di unire i popoli europei e di farle veramente un popolo cristiano, europeo, perché le radici europee sono cristiane, quindi qua cerchiamo di costruire questa Europa. Allora grazie anche a Don Dionisio che fa questo bel servizio ai popoli d'Europa. Grazie a voi e sono felice che avete intervistato una povera pecorella che fa servizio ai popoli europei.